Può arrivare nell'eccellente medio se con una realizzazione adeguata, quindi salire un pochino, speriamo, per la finale. Yua Watanabe, che è seconda nella preliminary round. Vi saliamo ora a Yua Watanabe, da Japan, che è seconda dopo la preliminary round. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.